Sì, sicuramente c'è rammarico perché queste sono partite che non puoi farti sfuggire. Sono due punti persi e facciamo anche fatica a capire come siamo riusciti a non portare a casa tre punti oggi perché le occasioni sono state veramente troppe. Sì, diciamo che questo è dovuto alla loro bassezza di squadra, perché giocavano veramente con cinque piantati dietro e quindi non era facile avere spazio anche da correre dietro alla loro linea. Quindi diciamo che il loro gioco ci ha portato un po', mi ha portato a fare così, però le occasioni, ripeto, stanzialmente tante che indipendentemente da come siamo riusciti a arrivare a queste occasioni, e se parti facendo gol subito, magari con il rigore o con l'occasione di Cesare, la partita cambia totalmente. Rabbia sicuramente c'è tanta, ma è rammarico perché, ripeto, in questi campionati perdere questi due punti fa male. No, no, ma stiamo bene, l'abbiamo dimostrato, cioè mettere 80 minuti nell'area di rigore avversaria, ripeto, la Turris comunque è un'ottima squadra, non è facile, dopo i primi 25 minuti quando vedi che le cose non vanno bene, che prendi due traverse, che succedono queste cose qui, un minimo di contraccolpo psicologico ce l'hai. Però io, ripeto, la squadra ha fatto una partita ottima, secondo me.